la mani sono di interviste video ora questo è ucchedu ucchedu lo sbaglio sempre 2c e 2d ucchedu michele ucchedu che ha girato un pochino dalla gente sei stato dove dimmelo da zavelli dal chiti poi qualche cavallo ho avuto da solo e ora sono da parte ovvia dicci chi è ucchedu prima di dove vieni chi sei sono michele ucchedu 23 anni di origine sarda sono nato a Pugibunzi vivo ora sto qui a Siena se no sono di Montecastelli Pisano provincia di Pisa e basta e nella vita che fai come abbiamo iniziato a voler fare il fantino perché devo fare il fantino sì ho sempre avuto cavalli a casa montavo un po così poi la prima corsa l'ho fatta nel 2013 a Casoli ho provato a fare la batteria e ho vinto e poi ho fatto il fantino e poi da lì ho continuato e ora se lo abbatto e lo abbatto è un altro diventino che non è facile è dura è dura perché diventi rompi scatole che so per poter fare cose belle fatte anche i cavalli li vanno anche un po' allora se invece ora percorre provincia perché parte per provincia e ciao ciao non c'è cavalli da piazza perché non ce li porta e però c'ha tanti mezzo sangue questa che teresina mia ora sta mangiando vediamo se l'eserina mia come la canzone se l'eserina ci porto tutti e il musino e questa che fa si ha fatto un po' di podromo in Sardegna e ora si prova anche a vinto poi lei poi c'è Suelsu Suelsu Demotes, Ciamera e basta poi c'è Tannadir e la porta poi a Bientina Bientina vai a Bientina? no a parte va bene e te c'è niente in giro? no per ora no e allora quest'anno cavalli da montare si monteroni qui c'è dai ti manca cavalli per montare il protollo per monticiano mociano insomma per fare la tratta anche e non lo troviamo anche il cavallo perché cavando c'è qualche mezza parola poi ora non so vedrò e questa è una di vedi zitti zitti va lavora il fisio fisio adatto vedi il gelino eh insomma di orsi ha fatto poi a parte l'anno scorso ho vinto a Monteroni poi il corso per piandere fornaci terzo quarto a Fucecchio due volte secondo un terzo insomma c'ha male e l'ha stata o l'ha fatta l'anno scorso con una cavalla del Donatini colpa di a luglio però stava male ancora non montava per vedere l'inchilente lo montava io ah bene e allora questo è Michele Uccheggio l'abbiamo presentato poi lo rivediamo che farà per le corse bocca al lupo grazie